Campionato agli sgoccioli da oggi ad un mese esatto, infatti, termineranno i giochi con le due molisane di quarta serie, bravi a guadagnarsi la cosiddetta Pagnotta. In realtà l'Olimpia agnonese non ha mai tremato. Il Campobasso ha corso qualche rischio nei mesi invernali ed è letteralmente resuscitato sotto la gestione Silva. I Rosso-Blu attendono il Matelica per una partita che probabilmente dovrà aggiungere molto poco alla classifica sia dei Rosso-Blu che della squadra di Aldo Clementi. Il Matelica era partito con i Galloni di prima favorita per la vittoria finale, salvo poi una forte delusione sancita dal campo e che ha relegato i maceratesi a ben nove punti di distacco dalla fermana prima della classe. In settimana si sono diffuse delle voci che riferivano del molisano esposito e dell'attaccante Titone messi fuori rosa dalla società maceratese. Stamane abbiamo intercettato telefonicalmente il segretario del Matelica che ci ha parlato di una situazione in stand-by con il molisano esposito che è tornato temporaneamente in Molise, mentre le strade del Matelica e di Titone si sono separate di recente. Dunque i marchigiani stanno vivendo anche un periodo di forte smobilitazione in fatto di uomini. Ai marchigiani stessi toccano due molisane di fila, Matelica Agnone dello scorso turno è stata decisa nei minuti finali da un gol di Davide Evacuo, trentenne fratello di Felice, attaccante del Parma. A Matelica stavano circolando voci di un interessamento del presidente Mauro Canil all'acquisto della maceratese. Rumori subito smentiti dal vertice societario che ha precisato di non voler mollare la presidenza del Matelica. Silva del Campobasso non avrà particolari defezioni da oggi per i prossimi sette giorni. Si giocherà due volte prima domenica, poi nel giovedì prepasquale a Monte San Giusto contro il Monticelli. Con la salvezza ormai raggiunta Silva potrà far girare i giocatori, perché no coinvolgere anche i ragazzi della Juniors Rosso Blu e far vivere ad alcuni di questi l'ebbrezza del debutto con la prima squadra mercoledì scorso. Tre giocatori della Juniors di mister Giovanni Piccirilli, esattamente Testa, Fagnani e De Santis hanno preso parte alla selezione nazionale della Juniors di Serie D. Il gruppo di tifosi denominato Passione Rosso Blu è attivo in vista di domenica. I componenti del movimento hanno invitato anche alcuni amministratori di Palazzo San Giorgio ad acquistare un numero di biglietti per Campobasso Matelica da donare poi ad alcuni bambini che domenica potranno così riempire le gradinate di Selva Piana. Una maniera per riavvicinare una parte del pubblico campobassano alla squadra di calcio, anche se obiettivamente ce ne sarebbe di lavoro da fare per riaccostare il vero popolo rosso-blu alla squadra del capoluogo. Gli appelli a frequentare maggiormente Selva Piana da parte della dirigenza si moltiplicano, anche se lo Stato Maggiore Rosso Blu dovrebbe interrogarsi sul perché si sia verificato uno scollamento di tale portata nel corso delle stagioni. Si era partiti dai numeri anche importanti, risalenti addirittura all'eccellenza di quattro anni fa al deserto quasi di Selva Piana. Insomma non è che il pubblico importante sia mancato, c'è da dire piuttosto che si è lentamente allontanato. Sul fronte societario non si registrano novità di rilievo, Perrucci cerca aiuti per arrivare a fine stagione, poi aggiunge il vertice rosso-blu, si vedrà. Certo è che viene da pensare anche questo modo di parlare così sterile e volutamente enigmatico non è che contribuisca ad avvicinare le persone al campo basso. Obiettivamente stiamo sentendo Perrucci e Daliberti proferire frasi del tipo stiamo lavorando per ampliare la base societaria da circa otto mesi. Ci auguriamo di cuore che questa base possa essere effettivamente ampliata. Altro non possiamo sperare ad un mese dalla fine dei giochi. Non vorremmo ascoltare a maggio il triste mantra, ve l'avevamo detto, ma nessuno ha ascoltato il nostro appello oppure ce l'abbiamo messa tutta ma nessuno ci ha dato una mano. Che si agisca prima ma soprattutto Perrucci dica adesso alla piazza qual è la reale situazione contabile di un campo basso che sta lottando sul fronte societario per tentare a tutti i costi di salvare la barca.